Presidio e riferimento di legalità, diritti, uguaglianza e inclusione. La Cigelle di Bari con le immagini più belle di un anno di iniziative fa a tutti voi i migliori auguri per questa festività. Ben ritrovati su Cigelle Bari TV, un anno di iniziative su questioni importanti, approfondimenti di rilevanza sociale, seminari, convegni e con questa puntata speciale che è la Camera del Lavoro di Bari vuol fare a tutti voi i migliori auguri per questa festività regalandovi le immagini più belle di un anno insieme a tutti voi cittadini, lavoratori, giovani e pensionati. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno. La Confederazione Generale di Bari C'è bisogno di stare in piazza, certo, ancora una volta, ancora un sacrificio, ancora un sacrificio sulle buste paga dei lavoratori, ancora una volta la Cigelle da sola, ma come si fa a non stare in piazza? Come si fa a rassegnarsi all'idea che bisogna rassegnarsi a questo stato di disoccupazione? Come si fa a rassegnarsi ad un paese dove non c'è una politica industriale e i lavoratori soffrono? Quelli che lavorano e quelli che non lavorano perché anche il lavoro, anche coloro i quali ho già un lavoro, soffrono. Non riescono più a garantire una prospettiva decorosa alle proprie famiglie, ai propri figli, ci sono stipendi da tazzati. C'è bisogno di stare in piazza. C'è bisogno di stare in piazza. Come si fa ad assegnarsi a una condizione di disagio dei pre pensionati che ancora con le pensioni al minimo non riescono a garantirsi addirittura di pagarsi le medicine? Come si fa ad assegnarsi a una politica che non tiene conto che c'è bisogno di impostare una concentrazione sociale degna di questo nome? Pai-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Lo suo tormento è cinquant'anni che aspetta, che cada tra le sue braccia, furba viscroma volante, figlia di un dio geniale e sacripante. Sì, lo confesso, è un vero gezzarolo, insegue muse in volo, il genio al vetriolo, versa lacrime acrobatiche. Bisogna spesso il nostro gezzarolo, finire quel sossolo e tacere quel crogiolo di battute poco empatiche. Cammini, cammini nel cielo, cammini, cammini, non arrivi mai, Cammini, cammini nel cielo, cammini, cammini, non arrivi mai. Cammini, cammini nel cielo, cammini, cammini, non arrivi mai. Cammini, 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 cammini. Paira papaira 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 cadutandoti su alterazioni inesistenti Paira papaira 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 cadutandoti con i bei quadri intelligenti Paira papaira 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 cadutandoti In via del sol contrapunto c'è un vecchio artista consunto Promette a figli e nipoti casca se il mondo l'avrò in tutti i modi E' novant'anni che cerca di prenderti un giorno all'acce Ma tu viscroma volante, ti beppi e ridi del tuo spazimante Sì lo confesso, è un vero gezzarolo Insegue muse in volo, il genio alvetriolo Versa lacrime agrobatiche I'm dreaming spesso I am a gezzarolo Finire quel suo assolo Tacere quel cragiolo Di battute poco empatiche Insegue muse in volo, il genio alvetriolo Pretty time, 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 time Swifty crime, crime, crime Abba's all you find Toli stella luce in white Pretty time, time, time Swifty crime, crime, crime Iggy, grey, splash, blush Contrabanded stupid rhymes Come si fa a rassegnare a un governo che pensa che la concertazione, che il sindacato sia stato il problema di questo paese? C'è bisogno di stare in piazza, c'è bisogno che la CTL tenga ancora alto il vestito di questa organizzazione e del mondo sindacale in generale. Bari è stata peraltro, assieme a Parma, l'ultima città a cedere al fascismo trionfante nel 1922, grazie alla CGL e a Peppino Di Vittorio, che difesero con le armi la Camera del Lavoro di Bari Vecchi. C'è bisogno di stare in piazza, c'è bisogno di stare in piazza. C'è bisogno di stare in piazza. La volontà di voler tenere unite le forze democratiche e sane della società per la realizzazione di un programma di sviluppo e di riforme di cui il nostro paese ha enorme bisogno. E questo credo che debba essere l'obiettivo di tutte le forze democratiche del paese. C'è un sogno che mi ha portato qua, ed è quello di vedere un giorno i placcianti del sud e gli pareri del nord camminare, fianco a fianco, lottare per gli stessi diritti. E per questo sogno io sono disposto a lottare, fino all'ultimo dei miei giorni. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su Cigelle Bari Web TV e sul nostro sito internet www.cgelebari.it Andiamo in onda anche sul digitale terrestre, sul canale 78, Delta TV, tutte le mattine intorno alle 7.40 e in replica alle 23.45 circa. Arrivederci. Grazie a tutti.